Abbiamo presentato oggi Maker Faire che ci sarà a Roma dal 12 al 14 ottobre, una fiera importantissima nella quale tantissimi innovatori, i maker, presentano le loro invenzioni. Invenzioni che possono essere utilizzate nella vita di tutti i giorni, possono essere utilizzate nelle aziende e soprattutto possono essere da spunto per nuovi progetti che le amministrazioni possono e devono adottare. Roma Capitale sta facendo la sua parte, abbiamo già introdotto il 5G a Roma, stiamo lavorando sull'utilizzo del 5G all'interno di progetti di sicurezza urbana, all'interno di progetti di innovazione nel campo della cultura e del turismo, stiamo lavorando moltissimo su temi ambientali, di economia circolare che peraltro è il tema cardine di quest'anno e continueremo ad applicare sempre di più innovazioni e invenzioni alla pubblica amministrazione, perché una pubblica amministrazione che corre può essere da volano per lo sviluppo del paese. Grazie a tutti.